È nata da un gruppo di ex giocatori che hanno voluto creare questa società femminile a Prato perché la realtà a Prato femminile era quasi inesistente quindi hanno deciso un po' per gioco, un po' per divertimento di creare questa società che a lungo tempo ha fatto valere i risultati quindi vincendo per parecchi anni i campionati regionali nelle giovanili Under 15, Under 17, Under 19, Under 20 fino ad arrivare a quest'anno di aver vinto con la categoria Under 15 il campionato nazionale.